Buonasera, come stai? Sera Non parla, è muto Lui parla solo quando gli fai le domande A domande rispondi Solo quando gli fanno le domande E' proprio un birichino questo bidello filosofo Sostenuto, vedi? Ragazzi, buonasera A parte questo piccolo intro scherzoso Lo sapete, questa è la seconda puntata di 9x9 farà? 81 Ecco, questo è il nostro format Lo sapete, è un format che vi vede proprio protagonisti Perché vi dà la possibilità di farci domande E noi andremo a rispondere Perché noi siamo gli inventori E voi, anzi, noi siamo gli inventori E loro sono gli scienziati scopritori Il nostro bidello filosofo ci accompagna come sempre Puntata dedicata a rispondere alle vostre domande Della prima puntata quasi, quasi interamente E in più abbiamo voluto andare a scartabellare Un precedente video Eccolo qui, parliamo di InStream Fondamentalmente è il nuovo YoloBox Che ci è stato gentilmente fatto per venire Per parlarvene, per parlare delle sue particolari caratteristiche Caratteristiche che lo vedono in verticale E di questo parleremo Anzi, ve ne parlerà in particolare Stefano Che sta affrontando accuratamente Uno studio Uno studio approfondito E sarà un buon modo Una cosa interessante Sia da un punto di vista come apparecchiatura Quindi parlarne, farvela vedere Farvi capire come funziona Ma anche per analizzare Quelle che sono le mode del momento Eh già, il verticale Questo verticale Che però dobbiamo assolutamente tenere in considerazione Perché il mondo è cambiato Sta cambiando E va verso questo tipo di forma di espressione In particolare nel mondo dei social Aperta e chiuda parentesi Andiamo a vedere le nostre domande Io direi al nostro robottino Di farci la prima domanda Intanto posiamo il nostro in stream Allora Bidello Qual è la prima domanda Che hai trovato nel video Relativo alla scelta Che ha fatto Simone Abbandonando la Sony a 7 Tra l'altro hanno fatto tantissime domande Quindi ascoltiamo la prima Ciao ragazzi Nella mia precedente domanda Dicevo che sarei orientato Verso foto e video Senza però aggiungere Che al lato video do priorità Perciò a questo punto La scelta ricadrebbe sulla S5-2X Giusto? Mi dite 18 35 E 50 mm Ma dite che il 50 Non vi fa impazzire E se prendessi il 18 Il 35 E il Sigma 24 70 DG Art 2.8 Sarebbe una bella scelta? Quando faccio le foto Uso l'obiettivo Ho potuto fare quando faccio video Il 18 Il 35 E pure lo zoom 35 70 mm È una buona scelta? Grazie Sì Mauro Probabilmente è così Quindi io Noi Ti consigliamo di Attendere ancora Poco tempo Si spera Perché Da allora Da quando sono stato a Tokyo Non si è più sentito nulla Però in teoria In teoria dovrebbe essere quasi pronta E no A questo punto Aspettiamo Aspettiamo l'uscita della X Sicuramente Se sei più orientato al video Potrebbe essere una buona scelta Fermo restando Che secondo il mio Punto di vista Ma so che Stefano Condivide al 100% Non è che Avere la X Ti fa diventare Sicuro del fatto Che puoi fare migliori video È semplicemente Avere una macchina Ancora più Propensa Certo Ma poi E siccome tu dici Che l'attività Nel video making È predominante Allora Sì Noi ti consigliamo Avrai sicuramente Un progress in camera Che non fa mai male Avrai più megabit per secondo E sarai più propenso Più Diciamo pronto Nell'ambito del video Tieni in considerazione Questo Sarà anche Un Come posso dire Oltre che una spesa maggiore Anche Un approccio Poi di Post Produzione Maggiore Perché è chiaro Che avrai file Più pesanti Se questo non ti spaventa Se la macchina Ti piace di più E se ti vuoi dedicare più al video Assolutamente D'accordo Per quanto riguarda le ottiche Mi sembri un po' come Tanti di voi Che Siete Fondamentalmente Sapete già le risposte E ce le fate Quasi come dire Almeno sto in pace Con la coscienza Sono queste domande retoriche No no Ma in pace con la coscienza Se spendo questi soldi Ah certo Mi approvi Perché se no Poi non ti rimborsiamo No infatti Diciamo che Le ottiche che hai menzionato Sono tutte ultra valide È una bella spesa Quella che hai scelto di fare Ma vanno benissimo Ora dirti che Il 1835 È più adatto per il video Quell'altro per più Sinceramente non la penso Così Nel senso che Avere ottiche Che coprono Una Diciamo Un ampio Dipende pure in che contesto Lavori Ecco infatti Questo stavo per dire Cioè Non è che Cioè il 1835 Va bene Sia in foto Che in video Cioè dipende Da quello Che stai riprendendo Per quanto riguarda Invece Dico 1835 Ma come tutte le altre Che hai nomenclato Per quanto riguarda Invece la scelta del 50 Allora Io Se tu sei d'accordo Stefano A breve Penserei a un video Che poi in qualche modo Già ti accennavo In cui vi faremo vedere Proprio Più che Un'analisi dettagliata Al millimetro Proprio ottica Per ottica Del mondo Panasonic Vi farei vedere Un po' La manoramica Delle ottiche Panasonic E anche Come possono essere Utilizzate al meglio E per quanto riguarda Questo benedetto 50 Che io ho asserito In forse in più Di un'occasione Che non è il massimo Non è il massimo Perché Ha dei difetti Fondamentalmente Difetti che Possono piacere E non piacere Primo tra tutti Una sorta di bagliore Che fa Nel momento In cui c'è un contrasto Tra alte luci E ombre A me non piace Quell'effetto Lì mi dà Un po' Una sensazione Di ottica Diciamo Quasi sport Ricatta da male Sì C'è da dire Che è un'ottica Molto molto economica Però sinceramente Da una macchina Di un certo livello Mi aspetto Io ce l'ho Questo 50 E probabilmente Ce l'avrò ancora Per parecchio Fino a che Non deciderò Di spendere Per un 50 Migliore Che però Bisogna salire Tanto Ma tanto Di livello Per avere Tanto migliore Insomma E quindi Detto questo Insomma A parte quella Le altre ottiche Devo dire Mi piacciono tutte Hanno pregi Hanno pregi e difetti Ma ne parleremo In un video Apposito Direi di proseguire Per la prossima domanda Mi piacerebbe Forse S5 mark 2 S5 mark 2 Non ha il progress Ed è questa La fondamentale differenza Rispetto al mondo Appunto S5 mark 2 S Perché ci sarà Appunto Il raw E scusate Il progress E mentre invece Sulla versione 2 Classica Non c'è No Per quanto riguarda La leggerezza La possibilità Di lavorare O meno I file Dipende La domanda Te la facciamo noi a te Che computer C'hai? Certo Diciamo che Possiamo dirti Che Se vai Parlando Di un raw Classico Quindi un raw Per come Non il biro Per esempio Di black magic Ecco I raw Sono molto pesanti E difficilissimamente Tu puoi Avere una macchina Che li lavora Come se niente fosse Quindi La risposta è Se devi lavorare Con un raw Indipendentemente Da con quale macchina L'accusisci Con quale dispositivo Probabilmente Sarai costretto A fare dei proxy E a lavorare In quella maniera Sì Poi Xenofoto ci ha chiesto Pure se in futuro Affronteremo il discorso Della lavorazione Di questi file qua Sì È una cosa Che Abbiamo Interessante E addirittura Stavamo Progettando Di Parlare Di Proprio Dei Codec Di codec Ma anche Dell'approccio Perché a mio avviso Stefano Molto spesso Le persone Quando parliamo Di log Parliamo di progress Parliamo di file No Immediatamente Pensano a Quanto lavoro C'è da fare Dopo Invece io Continuo a pensare Che le macchine Di oggi Come può essere S5 Mark II Tutte le macchine Pro Comunque Hanno un approccio Veramente Basilare Si tratta Un po' Di avere D'occhio E gusto E un po' Di fondamentalmente Sapere Un minimo Ma veramente Un minimo Utilizzare L'apparede Color Piuttosto che Il vetro scope O strumenti Di questo genere Un instagram Ma poca roba E con 448 Ti ritrovi Il file Finito Comunque Cercheremo Di accontentare Anche questa richiesta Per il momento Pensiamo Di aver risposto Alla tua domanda Bidello Vai con la terza domanda Ciao e grazie Per il video Visto anche La recensione Fatta sul vostro Canale Ritenete Che la S5 II A livello Fotografico Sia tanto Superiore Alla Sony Alpha 7 III Per quanto riguarda La tenuta ISO E LF Conviene Stare Sulla 7 III A risparmiare Qualcosa Allora Qui ha letto Un po' meglio Perché ogni tanto Il bidello filosofo Ha la lingua Che gli si impassa Tra un po' Lo mandiamo A scuola di edizione Posso rispondere Io a Stefano Sì Certamente Sabato Questo qui Che è appena Scorso Sono stato proprio A fare Te ne parlavo A cena Sono stato a fare Un servizio Sia foto Che video Perché Magari Non molti lo sanno Ma mi occupo Ogni tanto Anche di fotografia E Praticamente Ho per la prima volta Utilizzato La S5 Mark II Anche nel comparto Fotografico Allora Intanto vi dico Che la macchina Poi Mi sono ripromesso Di parlarvene Fra un po' Di tempo Diciamo Dopo averla maturata Un po' E comunque La macchina Si è comportata Benissimo In entrambe I settori Sia in ambito Fotografico Che in ambito Video In particolare Non ho riscontrato E ci tengo a sottolinearlo Nessun problema Né di autofocus Né tantomeno In tutte le modalità In tutte le tipologie Di auto Di Inseguimento foto Scatto multiplo Video In 50 Video in 4k Io sinceramente Non È vero Ero in una condizione Abbastanza Privileggiata Ero a teatro Quindi a teatro Bene o male Il soggetto è Bene o male Però mi sono capitato Anche riprese Dove Stavo un po' In sottesposizione Dove il personaggio Era in ombra Eccetera Oh grossi problemi Non ne ho avuti Per quanto riguarda La domanda Che è interessantissima Come ti sei trovato Nell'ambito fotografico Allora Ti ho rimesso Che non ho potuto Scattare Perché non ho ancora Aggiornato La mia versione Lightroom Non ho scattato In raw E quindi Non ho visto Le foto Come possono essere Poi tradotte Da raw Per quanto riguarda I jpeg E per quanto riguarda Questo tipo di lavoro Che ho fatto Il feeling Che avevo Con il file Non con la macchina Con il file Portato su computer Non lo so C'era qualcosa Che mi attirava Un po' di più Del mondo Sony Eri più soddisfatto Della Sony 3 Sì Mi ha dato Una sensazione Più di fotografia Invece Questa S5 Mark II Ma ripeto Va assolutamente Rivalutata bene Questa cosa Perché era in un contesto Ho lavorato quasi tutto Col 70 200 f4 In una condizione Quasi sempre a 200 mm Perché ero lontano Eccetera Quindi insomma Lascia il tempo Che trova Queste cose Che sto dicendo Però Diciamo che Il feeling Che avevo Nel fotografare Con Sony 7 III Mi piaceva un po' di più Mentre invece in video È stato Veramente Favoloso Perché con il 70 200 200 mm Stavo lì Mi facevo Le mie belle Riprese E sono venute Benissimo Tra l'altro Non l'ho Neanche girata In log Perché dovevo Consegnare Immediatamente Il file Al cliente File Venuti Perfetti Da cavalletto Mi ero portato Anche il monopiede Il mio sirui Sinceramente Non l'ho usato Perché era perfetta Quindi insomma È notevole 70 200 Sì sì Mi sono trovato benissimo Mi riprometto Però di darvi Fermo Stando che io non sono Un fotografo Almeno in maniera Professionale Non lo sono Però Non ho avuto Grossi problemi Devo dire Che il file È venuto Un bellissimo file Tutto a fuoco Tutto perfetto Vi dirò meglio Magari in futuro Ad oggi Vi posso dire Che la macchina Si è comportata Benissimo Se devo rispondere Se vale la pena Più in ambito fotografico Ti posso dire Che la sensazione Così Però ripeto In un solo contesto In un solo esempio È stata Che mi piaceva Un po' più Sony Come Nel rapporto fotografico Però ripeto Sono cose Troppo a freddo Troppo a capo Poi rimane sempre il discorso Che hai lavorato In JPEG Lavorato in JPEG Ma era Era un contesto Troppo particolare Mi riprometto Magari ho possibilità Di fare qualche cosa In più In ambito fotografico Di parlarvene meglio Fermo restando Che poi Damiano E Roberto Sicuramente Ne sanno di più E comunque Diciamo Magari ci lavoreranno Sicuramente di più Di me In quest'ambito Però la domanda è interessante Vi farò sapere meglio Ok Il problema È che venduta La Sonaia 7 Tre Ne hai raccontato Per filo E per segno Tutti i difetti Lato video Non pochi E non di poco conto E quindi Nonostante altrettanti pregi Il motivo del cambiamento Molto apprezzabile Ma farlo prima? Sarebbe quindi interessante Sapere anche Allo stesso modo I difetti In rapporto Ai pregi Della S5 2 Ma ora O quando avrei avuto Modo di utilizzarla Per bene E non fra qualche anno Quando la cambierai A quel punto Diventa inutile Per chi ti segue Beh Tutti i torti Non ce l'ha No Però Però è pur vero Che come fai A testare bene Una cosa Da poco Avendola poco tempo Cioè No lui dice Magari Fra poco Dice anche Pregi e difetti Perché ci parli solo Dei pregi Dice Dici pure i difetti E ci sono Ve ne dico uno Fondamentalmente Mi sono trovato male Con La mancanza Di una vera e proprio Split Camera Tra fotografia e video Io mi sono reso conto Che per esempio Questo forse è stato proprio La goccia Che mi ha fatto accorge Di questa cosa Quando sono passato Siccome facevo foto e video Quella sera Di cui vi parlavo prima C'avevo il problema Che se passavo Da fotografia a video Mi manteneva La loot E mi manteneva Tutti i settaggi Del video Oppure viceversa Tutti i settaggi Della fotografia Quindi Questa cosa È deleteria Per chi fa È una bella macedonia Insomma Ti costringe ad avere O due macchine Oppure a mettere Il tasto C1 C2 Che passa Da una modalità All'altra Di cui Qualche limite Sì Poi magari Mi facciamo Anche qua Una piccola Diciamo Invece in questo La 7.3 Allora Più Netto Allora Ti posso dire Che a 7.3 Malgrado anche essa Non è pensata Per fare fotografie E video Separate Però Quando passavi In modalità Video Cambiava Un pochino L'aspetto Cioè I parametri E le modalità Non del file Cioè Non del log Per esempio Se era log Te lo mantenevi in log Però Faceva leggermente Un lavoro migliore Mi rimetteva le bande Invece Per esempio Se io Mantengo le bande Mi rimangono anche In modalità fotografica E chiaramente Mi davano un fastidio cane Insomma Ci sono Questo Questa è una prima cosa Che vi posso dire Ma di certo Ne faremo un video Perché è giusto Parlare di pregi E anche di difetti Delle macchine Alessandro È un po' come L'innamoramento Tu quando sei appena Innamorato Vedi tutto positivo Nella persona E invece La tua vecchia Sì Moglie A sette tre Virgolette Io so Solo una cosa Che se tua moglie Vede sti video Ogni volta No No Taglia 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 Vai Bitello Prima che arrivi Alla moglie Ciao ragazzi Grazie per questi video Davvero interessanti Ho visto il video Sugli automatismi Ma allora Forse una cosa Non mi è ancora Chiara Io Gli iso automatici Li uso Impostando un limite Massimo Per compensare Le variazioni Continue Di illuminazione Nelle riprese Dinamiche Se impostassi Gli isofissi Come le dovrei Compensare Variando Costantemente Il grado Del filtro N di variabile Sarebbe difficile Però mantenere L'illuminazione Costante In questo modo Grazie mille Per il vostro aiuto Qua rispondi tu Però ti dico Che meno male Che vedi qualcuno Forse richiamando L'attenzione Perché fidatevi Lo continuo a dire Quel video È interessante Che abbiamo fatto Quindi lo richiamiamo Un'altra volta Limiti sì No Come era Automatismi sì Automatismi no Andatelo a vedere Secondo me È carino E ha degli ottimi Spunti di riflessione Stefano Secondo me Come si chiama Il nostro amico Usate la memoria Andrea Gentile Andrea Gentile Ha un po' di confusione Su come approcciare All'esposizione In ambito video Perché giustamente Ragiona un po' Secondo Quello che mi sono fatto Un po' fotograficamente Un po' fotograficamente Caro Andrea Allora Abbiamo un pochino L'impressione Che tu affronti Il mondo video Un po' come La fotografia Nel video È ovvio Che è tutto dinamico E c'hai Un cambio Di luminosità Nelle varie scene E queste Fanno parte Di quello che stai riprendendo Quindi cercare sempre Di compensare Per avere sempre Lo stesso livello Di luminosità A nostro avviso Rende un po' La ripresa molto piatta Piatta e sbagliata Se vogliamo Facciamo un esempio Così magari capisce meglio Allora Corridoio Io faccio sempre questo esempio Una cucina E una camera da letto Corridoio Il corridoio La luce spenta La cucina La camera da letto È accesa Tu dove fai l'esposizione Tutte e tre le volte In cucina In corridoio In sala da letto No Cioè fondamentalmente Se il personaggio Entra dalla camera da letto È illuminato Poi passa nel corridoio E vai in cucina E tu fai un piano sequenza Di questo suo passaggio L'esposizione sarà per O il punto iniziale O in genere Quello finale Dove magari Entra e dice una frase Il corridoio è sempre buio Il corridoio è buio E buio rimane Rischiarare al giorno Perché ci stai passando Con la telecamera Ti basta guardare Qualche film Magari di quelli d'azione Eccetera Dove ti accorgi Che spesso e volentieri I personaggi passano al buio E rimangono al buio Cioè se poi Facciamo un altro esempio Se invece C'è il passaggio Dal buio E a un certo punto Rimane nel buio E comunque Accende una candela Eccetera Piano piano In maniera Devi essere un bravo operatore Magari ti puoi aiutare Come hai detto te Con un filtro ND Ma non facendo giorno Esatto Rimanendo sempre in penombra E andando comunque A cercare di far vedere meglio L'immagine Anche perché lo scopo dell'ND È soprattutto quello Di farti lavorare Con dei parametri Che scegli te Ad esempio Vuoi lavorare Con un certo diaframma Ma per avere una profondità Di campo adeguata Ma comunque La luce è troppo forte Perché stai sotto luce Il giorno Gioco forza Devi mettere un filtro ND Quindi non è che Il filtro ND Non diventa uno strumento Esatto Non si usa in fase di rec Cioè mentre stai facendo rec Vai a Diciamoci Piccole variazioni Le puoi fare Ma di certo Non puoi fare quello Che fa il telefonino Che boom Perché sarebbe innaturale No Tu anche la visione umana Non è Non è fatta così Ultima cosa da dire Che invece fai bene A mettere un limite Ai tuoi ISO Attenzione però A non metterlo in automatico E per questo Ti rimandiamo anche a te Al video Automatismi sì Automatismi no E a capire Quando metterlo in automatico Andrei Oltre Per noi diventiamo Un marzoio lunghi Vai 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 La real time loot Ritenete sia davvero Un valore aggiunto E utile Tale da opzionare La S5 2 Rispetto agli altri modelli Questa è una Funzione Che si può sfruttare Anche in fotografia Per creare Dei profili colore Come fa Fuji Con le sue simulazioni Pellicola Real time loot È assolutamente interessante E si può utilizzare Per quello che fa Fuji Sì Però Ti deve piacere Questo metodo di lavoro Sì Fondamentalmente Questa è la risposta A me non piace A me piace Post produrre Stefano Tu invece cosa Prediligi No pure io Prediligo Poi scegliere dopo Noi giriamo sempre Se stiamo su Black Magic In film E poi coloriamo dopo O se giriamo Con altre macchine Hai più tempo In post produzione Hai più tempo Per ragionare Per fare delle prove Contro prove Diciamo la real time loot È troppo drastica Scegli quella Sì Diciamo che te la puoi creare tu Quindi è un tuo mondo Il tuo modo di vedere le cose Ci può stare Però Ti faccio Ti osservo Faccio questa osservazione Perché non crearsi Una loot E caricarlo come preview Ah ecco Quello sì E poi dopo La riapplicherai Solamente in post produzione E lì Se hai sbagliato qualcosa Sei ancora in grado Quello è interessante Ma dall'altronde Anche noi lo facciamo Spesso Perché vedere Un'immagine nel log Non è che sia esaltante Quindi visto che S5 Mark II Consente sia Di caricare Il real time loot Quindi Registrare Il real time loot Ma anche di caricare La loot Come view assist Prediriggerei Sicuramente Questa seconda strada In modo tale Che già vedi Comunque con la colorazione Che ti riguarda Che ti piace E poi la devi solamente In post produzione Prendere e trascinare E in teoria E ottiene lo stesso risultato Sta a tempo Decide Certo Se devi consegnare Il file Immediatamente Appena l'hai fatto Al tuo cliente Allora ci può stare Vai Bitello Riassumendo La mia domanda Sono indeciso Sull'acquisto Delle seguenti Fotocamere Panasonic S5 II Sono i A7 IV Sono i FX30 OM System M1 Sono i Alpha 1 Fuji X S H2S Ma in ognuna di loro Non trovo Il giusto compromesso Con le mie esigenze Oppure meglio Aspettare una futura S1 II Con nuovo sistema F a fase O accontentarsi Tra virgolette Di S5 II Adesso Sperando Che un prossimo Aggiornamento Firmware Migliori La parte fotografica? Dipende Che fretta Hai Prima di tutto Di secondo Dipende da quanto Vuoi spendere Perché hai parlato Di macchine Che costano Un fottio Di differenza Sì Per il dovere di cronaca La domanda Che è originale Di Marco Era ben più complessa Lui Ricordiamo Che questo è un sunto L'avete visto Dall'immensa Ci siamo Marco Ci siamo permessi Di fare un sunto Perché Il nostro Bitello filosofo Ci licenzia Sì licenzia Detto questo Stai sereno Cioè Se pensi Che è il momento Di comprare una macchina La macchina perfetta Non arriverà Mai Quindi Scegli quella Che ti dà più emozione Scegli quella Che secondo te Si adatta più tecnicamente E anche quella Che esce più facilmente Dal tuo portafoglio Certo Questi sono i passaggi Cioè La macchina perfetta Non esiste E oggi Qualsiasi macchina È in grado di darti Un file da Dio Se tu lo sai fare Quindi Secondo il nostro Punto di vista Non è che Sony a 7.4 Rispetto all'S5 Rispetto a battere la pesca Farai un lavoro diverso Quello sarà sempre Il tuo manico Le macchine che hai elencato Ecco Sono tutte eccezionali Eccezionali Adesso no Quindi Io starei tranquillo Se pensi di poter scegliere Una macchina Di un importo X Vai su quella macchina Se invece pensi di Certo Hai elencato Cioè Dall'Alfa 1 Fino alla Fuji Magari Facendo Un'escursione Veramente Completa Sia su prezzi Che su caratteristiche Quindi Non c'è una risposta È impossibile dartela Cioè Dovresti comprartelo tutte Come qualcuno La conosciamo Ci stavo pensando Una versione Nella nostra conoscenza Che salutiamo Lui lo sa È un beta tester In realtà Lui se le compra tutte E fa A posto E ha risolto il problema Se no vinci al Super Enalotto A quel punto Problemi non ce ne stai Ti compri proprio la Sony Ma vedrai che dopo Il problema Dici ma oggi Con quale macchina esco Andiamo avanti E adesso passiamo Al gruppo di domande Molto velocemente Mi raccomando Robottino Anzi Bidello Non andare Troppo lento Non fare Non sbiascicare Sì Perché dobbiamo rispondere A diverse domande Sullo Yolobox Vi ripeto Ve lo mettiamo qui sotto Il video dedicato A Yolobox Che ha scaturito Queste domande Vi rimando anche al video Perché è interessante Ciao Simone Mentre stavi facendo La prova di streaming Ricollegato a internet Con scheda sim cellulare Ho visto poi Che mentre cambiavi Le impostazioni La diretta Ha avuto dei drop frame Sino al 21% E penso sia normale Visto che magari Stavi sovraccaricando Il processore Facendo più operazioni Contemporaneamente Come si comporta Da questo punto di vista È abbastanza stabile Nelle dirette Anche ad esempio In situazioni Di clima caldo Grazie ancora Allora Ricordo io Perché conosco meglio Lo strumento E ho fatto la recensione Allora Intanto Vi rimando A vedere il video Così vedete anche I pezzi Di cui parla Il nostro amico Si chiama Francesco Salvatore Ok Che ringraziamo E Francesco Il discorso è questo La macchina Tutto sommato Si comporta benissimo Ha qualche Come tutte le macchine Che fanno tante cose Ma anche i computer stessi Ha qualche piccolo bug Quella Ma Devo dire che In termini di Garanzia Di mantenere Salda La connessione Non ha nulla Che invidiare Ai normali computer Ai normali cellulari Per quanto riguarda In quel momento No Non stavo utilizzando La scheda sim Non l'ho mai utilizzata Durante le riprese Quelle Diciamo Del beta test Che ho fatto con voi Ma stavo utilizzando Il wifi Io purtroppo In quel periodo Soprattutto Non avevo Una grande Diciamo Connessione Di rete Quindi può darsi Semplicemente Che magari In quel momento Ho avuto Un down Della rete O comunque Un abbassamento Di velocità Che ripeto Era veramente Mi pare Che si aggirasse Intorno ai 4-5 megabit Per secondo Quindi veramente Uno schifo E malgrado questo Devo dire Che lo strumento Mantiene la linea E anzi Ti avverte Dandoti Up e down Quali sono I parametri Diciamo Di connessione E si comporta Benissimo Il processore Non viene Minimamente Affaticato Da questo punto Di vista Cioè Non è che Se tu fai Delle operazioni Hai meno Banda Che viene Inviata No Assolutamente E poi se non è Lo puoi anche Regolare Il flusso E lui ecco Puoi decidere Se mandare Più Qualità In bitrate Più La qualità Costante O fare Un misto Insomma Ci sono varie Impostazioni Vi rimando al video Per vedere meglio Però Da questo punto di vista Ti garantisco Che non ha Nessun problema La macchina È comunque stabile E anche Con il calore Devo dire Che mai avuto problemi L'ho usato Addirittura Al mare In estate Con connessione Di un'ora e mezza Quasi due ore Mai avuto problemi Quindi da questo punto di vista Mi sento Di garantirti Lo Yolo Box Ha piccoli bug Piccole cose Insomma Che in parte Hanno risolto Quegli aggiornamenti In parte no Direi di proseguire Però perché Giovine Dai Fai Posso acquisire Una chiave YouTube Di una live Programmata In precedenza Luca Allora Si si può Assolutamente Programmare Una keyword Quindi una key Diciamo Su YouTube Questo è possibile Farlo con il protocollo RMTS C'è una procedura Se cerchi sulla rete Ce ne sono tantissime Che ti fanno vedere Come si fa Adesso diventa difficile Spiegartelo Ma si si può fare Si può fare tranquillamente Ti dirò di più Se tu programmi Le dirette Su YouTube Puoi tranquillamente Agganciandoti da YouTube Vedere tutte le live Che sono state programmate Comunque insomma È fattibilissimo Non c'è nessun tipo di problema Avrei bisogno Di un prodotto Che permetta I replay Istantanei È possibile Con la Yolo Box Yolo Box Nasce Inizialmente Proprio per le dirette Delle partite E su una Delle ultime release Degli aggiornamenti Che sono stati fatti Tantissimi Aggiornamenti È stato proprio Inserito Il replay Video Per le partite Per gli spettacoli Quindi sì Assolutamente Oltre a poter mettere Punteggi di partite Pallone Basket C'è stato Ammesso addirittura Il replay Non l'ho mai provato Perché non mi è mai capitato Quindi lui prende L'ultima parte Di quello che ha registrato Del busser E si Lo puoi rimandare Al volo Bellissimo Non l'ho mai provato Però si si può fare Anche perché Non l'ho provato Anche perché è uscito Questo aggiornamento Dopo che avevo fatto il video Quindi Non ho potuto farvelo vedere Né tantomeno provarlo Sulla versione Yolo Box Pro C'è sicuro al 100% Che è la versione Dedicata appunto Agli eventi sportivi Salve Avrei bisogno Di sapere Se è possibile Andare in streaming Contemporaneamente Su due account Dello stesso Social Un'altra cosa È quella Del chroma Come funziona Esattamente Bello come ha detto Esattamente Complimenti Hai questo spritz Ogni tanto Ha bevuto qualcosa Allora Rispondo sempre Io ripeto Perché lo conosco Un po' meglio Poi invece Sul nuovo Yolo Box Sono in stream In stream Insomma Sarà Il professore Sarà lui È possibile Fare dirette Su più social Contemporaneamente Ma che io sappia Non è possibile Prendere due dirette Dello stesso canale social Ad esempio Due youtube Non lo posso fare Almeno A me sembra Che non si possa fare Non credo sia possibile E Per quanto riguarda Il chroma key È semplicissimo Da utilizzare Ti dà la possibilità Di creare Un nuovo Layer Quindi un nuovo Una no Acquisizione di fonte Tu scegli la camera E a quel punto C'è proprio L'opzione Di edit Chroma key E basta che selezioni Quella Quella modalità Lui automaticamente Buca il Chroma Cioè il verde E O il colore Che tu vuoi Il blu E poi Ci sono due tre parametri Certamente Non è un chroma Da editing Di post produzione Alla da vinci Per carità Però insomma Se il verde È fatto bene E tu non stai attaccato Al verde Non ci sono riflessi E quant'altro Viene bucato tranquillamente E anche questo L'ho utilizzato Devo dire che non Non ho avuto Grossi problemi Come streamyard Non consente Di visualizzare I commenti In RMTS Ma i commenti Per vederli insieme Bisogna selezionare La piattaforma Compaiono insieme? Allora I commenti dovrebbero Comparire insieme Dico dovrebbero Perché ho passato Un po' di tempo Da quando Non lo utilizzo In questo modo Appunto Sfruttando i commenti Che mi ricordi io Ti fa vedere Sia la piattaforma Da dove arrivano Sia il commento Quindi vedi Proprio l'icona YouTube Facebook Eccetera Se lo usi Per esempio Su due social diversi Però Ti riporto Un attimino Al video Che ho fatto In precedenza Perché magari Ne parlo un po' meglio Se non ricordo male Ho fatto proprio un video In cui Ve ne parlavo meglio Insomma Mi facevo vedere Un po' di cose E Mi sembra di aver fatto La diretta Proprio con lo Yolbox Così come ci faceva Ci osservava prima L'altro amico E quindi Lì forse Si capisce meglio Non mi ricordo Sono sincero Però 99 su 100 Mi sembra che Divide Proprio i commenti E ti fa vedere L'iconcina Da dove arriva Cioè se YouTube Facebook O Twitter Insomma Da dove Ci stanno arrivando I commenti Da quale social Ci posso connettere Due Osmo Action Che non hanno uscita HDMI Però hanno Wi-Fi E uscita USB Ci credo Solo dati Risposta Semplicissima Non come È semplice Nominare Il tuo nome Oles Hot Moto TV Che io non lo so Da dove prendono Certe volte Questi nomi Comunque Carissimo amico Purtroppo Non è Possibile Collegare nulla In Wi-Fi Non è Predisposto Per questo E chissà Se in un futuro Uscirà Un aggiornamento Oppure faranno Una versione Che consente Le connessioni In Wi-Fi Purtroppo Non è assolutamente Fattibile E quindi La risposta è No Non si può fare È possibile Inviare un segnale Proveniente Dalla camera Dell'iPhone In modalità Wi-Fi Questa È una domanda Di linea 18SRL Anche tu Un nome Tutto un programma No Non è possibile Per lo stesso motivo Appena detto Vorrei sapere Se si può utilizzare Un hard disk esterno E quale cavo usare Grazie Quindi la risposta È no Puoi utilizzare Esclusivamente La schedina SD card Che Su cui Puoi registrare E puoi inserire I Le grafiche E tutto quello Che si può Non è possibile Però collegare Un cavo O un hard disk esterno Non è previsto Ma ti posso garantire Che su un SD Anche da 32 GB C'entra veramente L'ira di Dio Perché il fattore Di compressione È abbastanza alto Anche se la qualità È buona Ma parliamo di uno strumento Che nasce per internet Quindi Una volta che hai superato E di grande Quella che è la qualità In full HD Tra le altre cose D D Della connessione internet Fondamentalmente Si accontenta di questo Quindi non è un registratore Che fa ProRes È un registratore Che fa un buon H264 Con Insomma Un bit rate Niente di eccezionale E quindi in quel caso Con 32 GB Ci vai avanti Per ore E si Quindi non serve Collegare un hard disk Insomma ecco Ragazzi Stefano Siamo arrivati a questa seconda Ma chissà quanto avremmo Collezionato di tempo oggi No ma io penso che oggi Siamo andati in pochino Però i nostri ascoltatori Ormai ci conoscono Anche per i tempi Siamo forse il record Di youtuber Ma mamma mia Quanto ci piace Giacchiera Quanto ci piace Giacchiera Detto questo Ragazzi Seconda puntata Io sono sicuro Che questo format Con il nostro Bidello filosofo Vi piace E scaturirà Sempre più domande Quindi Abbiamo visto Dalle domande Che sono state Sulle domande Sulle domande Quindi Questo ci fa molto Molto piacere Ci ha fatto piacere Vedere che Vi siete complimentati Con noi Sia per l'idea Che per la modalità In cui abbiamo Interagito con voi Che vuole essere Uno scherzo Ma anche Un modo interessante Di proporre Argomentazioni E per questo Vi chiediamo Ancora una volta Lasciate i vostri commenti Lasciate le vostre domande Le vostre affermazioni Purché Ricordiamo sempre Siano fatte Con Criterio Educazione E anche Buonsenso Ma sì Detto questo Vi salutiamo E al prossimo 9x9 farà 81 Ciao 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 a tutti